E Sonia Bognanni, la nuova capo e spettrice delle infermiere volontarie della provincia di Caltanissetta, nominata ispettrice dai vertici nazionali per le sue qualità umane, organizzative e l'attaccamento ai valori e ai sette principi della Croce Rossa. Ci spendiamo ogni giorno per i più vulnerabili, dal fare servizio in ospedale, nelle corsie, con la nostra professionalità, con il nostro titolo di infermiere volontaria, come corpo ausiliare delle forze armate e quindi collaborando, facendo i dobi di Sineschi Ordini Bellici, nelle missioni nazionali e internazionali, sul territorio ci spendiamo per i vulnerabili, come dappertutto nel mondo. Parla dell'importanza del volontariato e il valore di dare aiuto ai vulnerabili. Fare volontariato, essere un'infermiera, più che dare, molte volte ricevere. E questo è il nostro spirito che andiamo avanti. Noi lasciamo famiglia, lasciamo casa, non ci pagano, ma noi il nostro, diciamo, convenzo e il sorriso di una persona quando ci ringrazia. Quindi voglio sempre più portare che la nuova gioventù si iscriva al corpo e all'infermiera volontaria per dire anch'io faccio poco, ma quel poco diventa tanto per le persone che ne hanno bisogno. Questo è il mio impegno. Grazie.